Ciao ragazzi, eccoci, Don Damiano, si va a fare un giro al mare, adesso andiamo a prendere il sciaro, questa è la macchina al solso, infatti dai una lavata, diamo una lavata alla macchina, andiamo a dare la lavata, si va al mare. Arrivati da Sharon e si va al mare a fare una bella passeggiata, visto che c'è questo bel tempo che adesso sembra grigio, sembra eh, ecco, sai che cazzo. Arrivata Sharon, tac, si va al mare. Eccoci, capitana capozzo. Eccoci, capitana capozzo. Eccoci, capitana capozzo. Salute Grazie a tutti. 3 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 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 7 7 8 5 6 6 7 7 8 8 8 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 Ciao, ciao, ciao È buono Ghiottini La panna non mi piace È giro d'artigianale o? Eh ma la panna non mi piace Ma che devo fare? Dammi Com'è girato? Beh noi andiamo a casa Glassa vado ci vediamo stasera? forse ci arriviamo